Dovrà rispondere del reato di violenza privata il 36enne di Gela residente a Vittoria ad essere arrestato dalla polizia del locale commissariato Paolo Di Stefano, un pregiudicato. L'uomo ha minacciato la sua convivente di grave danno e dare alle fiamme il locale in cui lavoravano insieme. Coppia nella vita e nel lavoro dunque due conviventi che ieri pomeriggio hanno impegnato gli agenti della sezione volante del commissariato di via Emanuele Loi. Le indagini a Viete dei Poliziotti hanno accertato che i due per motivi personali avevano avuto una lite furibonda all'interno di un locale del centro cittadino di cui è titolare la donna, al punto da chiudere l'attività. Inoltre è stato accertato che il convivente che coadiuvava la titolare avrebbe dovuto lasciare il locale ed il lavoro. Qualche ora dopo la donna, passando dal luogo, ha visto che il convivente, su insaputa e non spiegandosi come, aveva riaperto il locale. Pertanto, temendo di affrontare da sola l'uomo che prima l'aveva minacciata, ha preferito contattare il suo avvocato e farsi accompagnare da questi per risolvere la faccenda. La situazione è apparsa subito critica e pertanto hanno chiesto l'intervento della polizia. A quel punto, il convivente, nonostante la presenza degli agenti, ha mostrato insofferenza e ha continuato a minacciare la convivente di gravi danni e di dare alle fiamme anche il locale se fosse stato messo fuori dalla porta. Preso atto della situazione di pericolo e dei suoi precedenti penali, l'uomo è stato condotto in commissariato ed arrestato per il reato di violenza privata. Per Di Stefano, l'autorità iblea ha disposto gli arresti domiciliari.